Il 20 e il 21 aprile si avvicinano e con essi il ricordo di Mac Buongiorno in Rischiatutto si fa sempre più vivo. L'allegria del celebre conduttore circolerà nei nuovi studi del Pits Game presentato con profondo orgoglio da Fabio Fazio, che ospite di Massimo Giletti all'Arena ha svelato parecchi dettagli sulla trasmissione. Tante le novità di questo Rischiatutto e altrettanti i punti di contatto con il glorioso passato. Partiamo dalla valletta. Sarà Matilde Gioli l'aiutante di Fabio Fazio e prenderà il ruolo che fu di Sabina Ciuffini. Sabina rappresentava l'emancipazione e la libertà delle donne, ha dichiarato Fazio all'Arena. Abbiamo puntato su una bella e brava attrice che oggi interpreta questo ideale. Tra le altre rivelazioni, la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo, a partire da Maria De Filippi, Fabio De Luigi, Vincenzo Salemme, De Sica, La Cuccarini e Fabrizio Frizzi, che daranno battaglia in cabina ai concorrenti che si avvicenderanno. Insieme a loro anche tre memorabili campioni del passato, sempre al suo posto l'inostidabile signor no Ludovico Pellegrini, mentre giudice della serata del 20 aprile sarà Nino Frassica. Ospiti d'eccezione in studio per le domande sulla materia vivente, Alberto Tomba, in omaggio alla grande passione per gli sci di Bongiorno, e Fiorello, che tornerà dopo cinque anni di assenza dal piccolo schermo. Per me e per lui, il nome di Mike ha un valore affettivo molto sincero, ha confessato Fabio Fazio.